C'è una poesia di Giuseppe Ungaretti che mi incanta sempre, i cui versi mi ritornano spesso in mente. Giuseppe Ungaretti era al fronte, era in guerra, ma quel giorno era in licenza, era probabilmente in vacanza, perché racconta di essere stato sia la mattina che la sera a riposare nelle acque dell'isonzo. Trova una dolina, un'ansa in cui riposare, dove l'acqua scorba più lentamente e così si lascia coccolare dall'acqua. In quel momento lui che vive la fatica, che vive un soldato al fronte, sotto nella trincea, sotto il fuoco nemico, alle intemperie, vicino ai compagni che muoiono, ecco in quel momento lui prova la rara felicità di trovarsi nell'acqua, abbracciato, accoccolato e accarezzato dall'acqua. Poi esce dall'acqua e si mette lì e si china a ricevere il sole. Lui non dice a prendere il sole, è il 16 agosto quindi il sole è caldo. Lui dice si china a ricevere il sole, con un atteggiamento di umiltà straordinario, un atteggiamento che ci pone subito nella posizione della gratitudine. Poi ci racconta che quel fiume gli ricorda i fiumi della sua vita, infatti la poesia si intitola I fiumi e dice che quello stesso fiume gli ricorda il Nilo, il fiume in cui lui, sulle cui rive lui è nato, nei cui dintorni lui è cresciuto, è diventato uomo, è passata l'adolescenza con tutto il brivido e l'ardore dell'adolescenza. Poi ci racconta che quel fiume gli ricorda il serchio, il fiume dove sono nati i suoi genitori, quel fiume che costituisce le sue radici e poi quel fiume gli ricorda la senna. Il fiume gli ricorda la senna perché nella senna lui è diventato un uomo, nel torbido della senna ha concluso il suo percorso di giovane uomo per diventare un uomo. Ma la frase che mi colpisce sempre di più è quando dice mi sono sentito una docile fibra dell'universo. Cioè lui nell'acqua si sente parte di un tutt'uno enorme, straordinario e ci si adatta con docilità. Non è una situazione facile, però in quella situazione pur difficile lui si sente parte dell'universo al posto giusto nel momento giusto. E allora la lezione che lui ci dà è straordinaria, perché quando le cose vanno bene è facile sentirsi al posto giusto nel momento giusto, ma quando le cose si fanno difficili invece, quanto è difficile e quanto sarebbe bello e quanto è bello riuscire a sentirsi al posto giusto nel momento giusto, anche quando l'orizzonte si fa oscuro. Ecco, ti auguro di sentirti oggi esattamente così, una docile fibra dell'universo.